Caro Matteo, in questo congresso hai voluto decidere chi doveva candidarsi e chi no, chi doveva stare in lista e chi no. La data delle primarie è perché si tenessero qualche giorno prima della tua leopolda. Vai in tv a parlare di me, del nostro congresso, della Toscana? Sii corrente, vieni in Toscana. Non ti confrontare con Bruno Vespa, confrontati con me. Io ti voglio spiegare perché il PD e la sinistra devono cambiare, superare le loro divisioni, per non consegnare altri comuni e la regione alla Lega. Agli elettori voglio dire che le primarie del 14 ottobre possono partecipare tutti. Venite e cambiateci. A te Matteo, ti aspetto in Toscana.